Bell'uomo tuo padre, simpatico poi, proprio simpatico. Non è mio padre, è il mio fidanzato. Il tuo fidanzato? Meno male, mi hai risparmiato una gaffa. Ero già pronto a dirti che ero innamorato pazzo, che ti avrei seguita in capo al mondo. Anche se io questa sera, la seratina ce l'ho già sistemata. In che senso la serata è sistemata? Eh, io e Lisa, sai Lisa, beh non farmi dire di più, sono sempre un signore. Ah, così, tu e Lisa, e da quant'è che vi conoscete? Ma che importanza ha, è come se ci conoscessimo da sempre. Sai quando scatta quella magica attrazione di pelle, tac, è scattata. Perché tu la conosci da molto Lisa? Oh, anch'io da sempre, è mia madre. Tu madre? Ma dovrei qualcosa che c'è un po' la gola... Scusa, eh. Scusami per l'altra sera, ma mi sono un po' incasinato con le parentele. Perché mi guardi così? E che mi chiedo cosa avrei di così attraente. Ogni volta sei con una donna diversa. E beh, per prima cosa sono piccolo, ma ben fatto, che non è poco, eh. E poi non è vero, non sono per niente frivolo. Ah no? Saprei essere molto fedele, con la ragazza giusta. E per questo allora che prima le provi tutte? Io? Chissà con questa luna piena che pacchia per i luppi manari. I luppi manari? Ah, io buono, che scemo. Niente violenza. Niente violenza? E voglia di tenerezza? E di tanti bacini. Tanti bacini? Vai giù nelle cabine, va per favore. Che devo fare una telefonata d'affari. Senti, sei mai stato con una di quelle? Vuoi dire una di quelle è quella? Eh? No. Oh mamma mia, adesso come faccio? Ma come fai cosa? Eh, non ci sono stato nemmeno io. E allora? Eh, allora, allora ce n'è giù una sotto che mi sta aspettando. Non so come comportarmi, come... Come vuoi comportarti? Scendi e agisci. Vuoi che ti spieghi come si fa? No, quello me lo ricordo. Senti, secondo te, la devo baciare? Posso entrare? Aiuto, aiuto! Scappa Gianni, scappa, qui vuole uccidere tutti. Per voi capitalisti, è giunta l'ora della resa dei conti. Ma quali capitalisti, quali capitalisti? Io sono odonto tecnico, ve lo giuro. Quella lina puttana, diglielo chi sei avanti, diglielo. Io sono la fila del comandatore Karimati. Ma quale Karimati? Cosa fai, giochi a fare la signora? Questi qui ci ammazzano, eh? Ambra! Ambra! Portatelo di là. Questo vigliacco è capace di svenire e voglio che sia ben sveglio quando gli faremo il contropelo. Ma siete avanti? Cos'è stato di facendo? Perdono, dai! Ma che sono fatte? Le stanno tagliando le gambe! Ma siete scemi? No, non volevo dire scemi, eh? Scemi le scemi sono no, dai! Per piacere! Scemi, vai, vai, vai! Ma le stanno tagliando tutto! Ma perdono! Perdono, perdonatemi, lei! Fate così, vai! Preparati a vestiare le tue corde. Non, 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 non! Aiuto, aiuto! Viola!